Radio studio 95 compie 40 anni in FM venerdì 8 agosto super party on the beach con tutti i dj's e gli speakers ufficiali della radio in console special guest dj's denny j e rossini vi aspettiamo presso accanto beach club by stella marina lungomare mellito di porto salvo l'ingresso è libero and stay dance o mi raccomando tutti con le mani in cielo